Adesso abbiamo un momento importante, la presentazione ufficiale della nuova squadra della SITIGAS VODE H.S. Avellino e io, io e per esempio Antonio Guilhera raggiungo insieme e presentiamo ragazzi in contatto la SITIGAS H.S. Avellino e ancora viene il GCCI speciale della Coppa Italia che si ha il voto sul suo anno, facciamo una volta ragazzi allora cominciamo cominciamo dal finale al Stato Tecnico allora, cominciamo dal primo accordo il Francesco Di Lino, il Dottor da Pele, il Dottor, 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 il Dottor Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.